Fumageno! Sto ricaricando! Fumageno in arrivo! Peccato! Chi è il prossimo? Molto in giù per terra! Mi l'ho avvistato! Ah, quanto adoro quel suono! Fumagino in arrivo! Non te l'aspettavi! Fumagino! Colpite il mio bersaglio! Fumagino in arrivo! Fumagino in arrivo! Mangia la terra! Adoro il mio lavoro! Fumagino in arrivo! Fumagino in arrivo! Raff estamos! Fumagino in arrivo! Fumagino in arrivo! Siamo dietro di te! Perché no? Credo che te lo sai meritato. E' ancora finale! Attivo e pronto! Fumageno! Muori! Fatto! Rindividuato! Proviamoci! Peccato! Tresito! Bastra di piede! Tresito! 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 Bastra di cazzo! Contatto, amico! E ora, il colpo finale! Amico avvistato! Amico avvistato! Hai giù! Amico avvistato! Amico avvistato! Cosa! Quattro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lancia un'incendiaria! Grazie a tutti. 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 Muori. Fuori! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Capito. Non abbiamo finito. Forza! Forza! Fumagino in arrivo. A vero! Grazie a tutti. Il prossimo! Prendo! Prendo io! A vero! colpito! c'è il mio bersaglio! granata! Granata! ! è il... è il... è il... è il... Non mi annoia mai Temico rilevato Chi è il prossimo? Pronto all'azione Come faccio? Questo è un bravo Come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Non ho ancora finito, papacchino! Muori! Stop! Stori, naga! Bene! Fumageno! Fumageno! Colpite il mio bersaglio! Chi è il prossimo? Fumageno! Contatto simile! Colpa mia! Finalmente ci divertiamo! Fumageno! 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 Sono atomizzato! Abbiamo finito! Come faccio? Guardami! Grazie a tutti!